Durante l'anno faccio dei lavori anche cerebrali del tipo che ti siede alla scrivania e lavori tutto il giorno al computer è bello anche quello però dopo un po' mi stufo piace anche fare lavori manuali e adesso è quel periodo dell'anno in cui ritorno a fare delle cose più manuali è arrivato il momento di tornare in laboratorio a 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.